Torna al successo la Moronese che batte in casa il Montereale per 2-1 con una doppietta del bomber Matteo Liberatore. Il vantaggio dei locali al 27esimo del primo tempo, sugli sviluppi di un corner di Colabrese, in aria il colpo di testa di Liberatore per l'1-0 che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa il pari degli Aquilani alla mezz'ora, da una punizione battuta nel cerchio di centrocampo, la palla finisce nell'area della Moronese dove è lesto a concludere Andrea De Santis per l'1-1. Sul finire la squadra di Restaino realizza il gol vittoria grazie ad un calcio di rigore, batte una punizione porretta ed in aria commette fallo di mano di Stefano. Dal dischetto trasforma Liberatore che permette alla Moronese di ottenere i tre punti. Soddisfatto il presidente Alfredo Leombruni per aver vinto contro una squadra di vertice. Siamo soddisfatti del risultato, sapevamo di incontrare una squadra difficile, il Montereale che oltre alla sua storia ha dimostrato oggi anche in campo di essere una grandissima squadra, di meritare la posizione che c'è in classifica. A noi fa piacere perché battere una squadra come il Montereale è sicuramente un'impresa. Per il Montereale si tratta della seconda sconfitta stagionale che fa scendere gli Aquilani dal secondo al quarto posto in classifica. Continuiamo a sperare nei play-off, anche se siamo ancora tra le prime. È stata una bella partita, giocata veramente bene da tutte e due le squadre. Peccato per la fine che il rigore ci hanno dato contro. Sennò abbiamo recuperato una bella partita, anche se oggi stavamo con quattro giocatori in meno in difesa, ci mancava tutta la difesa e purtroppo è andata così. Speriamo per Dominia di recuperarli, tra squalificati e infortunati stiamo senza difesa. E anche con qualche centrocampista in meno. La Moronese si rilancia in classifica dopo la sconfitta nel derby con il Pacentro, avvicinandosi alla zona play-off. Anche per fare morale ci serviva questa vittoria. Siamo tutti contenti, complimenti al mister per come ha messo in campo la squadra, complimenti a tutti i giocatori per l'impegno e per tutti i dirigenti e i soli tifosi che ci accompagnano il domenica. Quindi ringrazio tutti e penso che da oggi ci sarà la svolta.